Bettinari, quanto accaduto nei giorni scorsi con la doppia evasione? Ripropone nella sua gravità il problema che riguarda il carcere di Pescara e il San Donato. Lei alcune settimane fa aveva scritto una lettera al Ministro parlando proprio della situazione della casa circondariale di Pescara. Sì, non solo. Io ho effettuato una serie infinita di sopralluoghi. Poi ho scritto diverse lettere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Ministro. Ho avuto dei riscontri positivi. C'è un riscontro che mi hanno promesso e garantito di aumentare il personale a breve, quindi di incrementare le risorse. Sono sempre poche, ma almeno è qualcosettina di più. E poi di mettere in cantiere, nella prossima programmazione imminente, dei lavori strutturati per la messa in sicurezza dell'edificio. Ora io dico bene le lettere di riscontro, bene questi impegni, ma è già troppo tardi. Bisogna fare presto perché non è possibile che in una casa circondariale, in un carcere, si può entrare e uscire come se niente fosse. Allora io voglio che vi sia anche un'indagine interna, un'indagine conoscitiva, un'indagine ispettiva per verificare che cosa è successo. Perché non è possibile che da un carcere si scavalca e si esce senza nessun tipo di problema. Appoggio pienamente la battaglia dei sindacati. Mi sono visto più volte, ho ricevuto le sigle sindacali, sono con loro, ma la politica deve fare di più. Si deve assumere la responsabilità e deve risolvere definitivamente questo problema, soprattutto indagare su eventuali responsabilità di non so di chi. Non è il lavoro mio, ma chi ha competenza specifica deve capire come fa un detenuto a scappare e a distanza di giorni a scappare altri detenuti da un carcere.